Ben trovati ragazzi su Connection Loss con un nuovo video su Dragon Ball Nuovo aggiornamento per questo gioco, versione 1.05 Innanzitutto controllate che in basso a destra ci sia la versione giusta E adesso ragazzi vi elencherò un po' che cosa c'è di nuovo Innanzitutto sono stati aggiunti 5 nuovi livelli Quindi si potrà arrivare fino all'85 in modo da far diventare il vostro personaggio leggermente più forte Poi come seconda novità abbiamo che nelle battaglie online non si potranno più usare le capsule Che vi rigenerano l'aura, l'energia, il vigore eccetera E come terza novità abbiamo il fatto che appena dopo, appena finite le quest parallele Non si risponerà più vicino ai Time Machines ma sotto l'arcata Sempre lì vicino ma comunque questo ci permetterà di risparmiare del tempo E il vostro maestro non sarà più al di sotto delle scale, appena sotto le scale Ma sotto il punto informazioni quindi un po' tutto più compatto Queste sono le nomità non tantissime però hanno reso più comodo il gioco Per questo video è tutto Bella